Ciao a tutti amanti del fitness e delle home gym, oggi dopo 10 ore di viaggio siamo finalmente arrivati in Puglia, più precisamente a Ordona, in provincia di Foggia, e non vedo l'ora di scoprire l'home gym di oggi. Seguitemi. Nella scorsa puntata abbiamo visitato la palestra di Lorenzo, oggi invece è il turno di Leonardo Mauro, direi di fare in fretta anche perché dopo 10 ore di viaggio potete immaginare la luce non è più quella del mattino, le regole ormai le avete imparate e quindi chi sarà in questa stagione a vincere il Montepremi di la Certosus lo scopriremo a breve, questa è la penultima puntata, che vinca il migliore. Siamo arrivati? Siamo arrivati. Oh, interessante. Sì, proprio questa è la posizione, sai. Un podere circondato dalle paleoliche. Mi piace. Una palestra nel verde, una palestra green. Una palestra green? Mi piace la palestra green. Oh, eccoli qua. Madonna, c'è un sacco di gente. Mio Dio, che accoglienza calorosa. Venimo ad aprirti? Sì. Oppure sto qua, come vuoi. Facciamo una puntata in dono oggi. Sì, eccoci arrivati. Oh, eccomi qua. Caspiterina, ma in quanti siete, che accoglienza calorosa. Abbracciatemi, prego, non risparmiatevi. Ciao. Come andiamo? Benissimo, bravo. Sì, sì, sì. Abusi pure del mio corpo. Ciao. Ciao. Molto piacere. Piacere a andare dalla mamma. Danny, 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 molto piacere, Danny, Danny, Piacere anche a Tobia. Chi è, allora, che mi farà fare la visita guidata all'interno della palestra? Sei tu? Sì. Oh, molto bene. Allora, da quello che vedo, dando un'occhiata, vedo anche un simbolo, un'icona di muscoli e ipertrofia. Sì. Sì. Che piacevole novità. Non avevo mai visto una palestra immersa nel verde così. Esatto. Una palestra green. Bellissima. Permettetemi, allora. Sì, sì. Seguo il fanciullo. Prego, prego. Un attimo, perché devo sempre trovare la mia energia prima. Oh, vedi? The Gym Homemade. Questa è fatta tutta da te? Dalla famiglia? Sì. Quasi interamente. Quasi interamente. Procediamo. Prego. Tanto di fregio del nome, tra l'altro. Leonardo. Do. Allora, da quello che vedo, è stato fatto un lavoro, diciamo, piuttosto importante. Sì. Anche perché dal contesto esterno non credo che questa fosse nata con l'idea di fare una palestra. Assolutamente. Questo all'inizio cos'era? Un garage? Prima, tanti anni fa, era una stalla. Ok. Tantissimi anni fa. Quello era un abbeveratoio o un mangiatoio. Ah, quel rialzo lì? Sì. Ok. Che abbiamo trasformato a tipo panca. Perfetto, che hai coperto con il telo. Quindi, io quasi quasi, sai cosa faccio? Mi cambio perché sono curioso, vorrei assaggiarne qualcuno e facciamo il tour completo dove mi mostri ogni singolo attrezzo. Ok? Dove posso cambiarmi? Qui, come un vero uomo, nella stalla. Perfetto. Abbiamo forse il borsone? Certo che ce lo abbiamo. Ecco qui il borsone. Sono pronto per assaggiare i tuoi attrezzi, ma prima di cominciare, ovviamente è tradizione in questa serie che io non mi presenti a mani vuote dal padrone di casa o meglio dal padrone della palestra. Velina! E che venga con un dono. Eccomi qui. Ed ecco qui il dono. Apra. Prenda. Lei conosce iRap? Certo. L'ha mai usata? Ha bevuto? No. E io sono qui per questo, per portare la luce ai senza luce. Ma mi dia, ecco il sacchetto perché sennò qui mi rubate il lavoro. Ah, insomma lui ci tiene. È una borraccia, ma attenzione perché non è la semplice borraccia di iRap, ma è la nuova borraccia di iRap. Stracca, stracca, non faccio complimenti. Eccola qua. Maggiorata. 850 millilitri. In metallo. Per mantenere, ok, la temperatura sempre ottimale dell'acqua. Riponiamo qua il packaging. Come vede... Faccia vedere, faccia vedere. È una sponsor, si avvicini. Prego, prego. Ecco qua. Non copra. C'è solo lei in questa sponsor. Ecco qua. Come vede, questa iRap è molto grande, è molto bella. Ma come funziona? Scopriamolo. 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 Basta aprire. E fino a qua. No, eh no, questo è l'inizio. Si apre, si stappa e qui inseriremo il Nettare degli dei, ovvero l'acqueta. Che acqua? Acqueta. Prego. Mi scusi. Si apropinqui. Eh, per piacere. Siamo alla sesta puntata, ormai dovrebbe essere tutto ottimizzato. Cosa vuole, io mi trovo sempre un attimino in difficoltà, è sempre tutto quanto così nuovo. Riempia, riempia. Abbiamo forse finito qui? No. Perché? Perché per regalare il famoso gusto ad iRap c'è bisogno del pod. Pod che è in ritardo. Perché? Perché la valletta è distratta, la valletta non è… Stavo prendendo tutti i tuoi gusti, però lei mi è proprio pignolo oggi. Eh, insomma, è tardi, abbiamo fatto un sacco di strada. Scelga anche uno dei due gusti. Anguria. Ah, perfetto. Apra. Ecco, adesso… Sprigiona tutti quanti gli odori. È più bravo di lei! Adesso può sorseggiare quest'acqua con un gusto angurioso, ma senza introdurre alcuna… Calorie. Assaggi. Non serve inclinare perché pesca da sotto, è perfetta. Effettivamente, è vero. Non è un inganno, non è una bugia. Grazie mille, Danny, del dono. Ci mancherebbe. Anche io ho qualcosa per te. Ah, sul serio? È un dono di un certo peso. Miseriaccia. Prodotti tipici. Certo, si compie la vena. Ha visto che vena? Come risponde bene per forza. Eh, guarda che roba. Casaneccio. Certo. A prezzo. Abbiamo carciofini sott'olio, peperoni ripieni di tonno e salame fatte in gas. Ma dobbiamo consumarlo adesso pre-workout o post? Meglio post, perché se no mi sdraio e non mi alzo più. Grazie saturi, qua c'è un po' di tutto. Sai che c'è? Un assaggino. Assaggino. Leonardo, io direi di cominciare e visto la grande quantità di attrezzi che hai, direi di fare in modo celere un viaggio pulito, un viaggio che segue un ordine. Partiamo da qua, in modo da non perdere alcun accessorio eh, perché qua nella confusione non vorrei perdermi qualcosa. Qui abbiamo una lat-machine vedo, ma non una semplice lat-machine. Una lat-machine in particolare, perché è stata costruita interamente a mano da me e mio padre. Sul serio? Sì. Accapita. Non ci sono né marchi né niente a nessuna parte. Ah, ma pensavo fosse, ti giuro, adesso non è per complimentarmi, pensavo fosse una macchina fatta in serie di qualche azienda. È copiata. Copiata, va bene giustamente e invece le carrucole sono... Queste le abbiamo comprate. Ok. No, giusto. Hai comprato le carrucole e hai costruito il telaio. Tra l'altro, la cume di papà, non so se tuo, avete anche avuto la lungimiranza di mettere una carrucola per un eventuale pullei. Esatto. Veramente complimenti. La assaggio subito allora, così diamo un voto alla vostra costruzione. Hai una barra lat? La vado a prendere su. Ci mancherebbe. Io sono qui per lei. Fatta a mano anche questa da... Si vede. Su serio? Sì, vede. Bravissimi. Veramente. L'unico problema è il peso. Non c'è. Caspiterina, che fa? Dobbiamo caricare. Eh, mi metta qualcosina. Non vorrei scendere e andare a vuoto. Muovere un po' d'aria anche, no? Siamo qui per portare spettacolo. Metta, metta, metta il ventino. 20 di qui, 20 di lì. Abbiamo un 50. E ci possiamo riscaldare. Pure qui. Perfetto. Ok. Molto bello il movimento. Mi piace l'esecuzione. Molto fluido. Che fa? Prende in giro. No, no, mi piace, mi piace. Ci mancherebbe altro. È veramente interessante. Vuole provare un burley? Voglio provarla davvero. Carichiamo. Buono movimento. Va a pacco un po' subito. Bastava alzarla qualche centimetro in più. Vedi? Ho una distinzione che va a fine corsa. La prossima la facciamo meglio. Esatto. Però, 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 può trovare un suo senso. Anche magari con un'ottica un po' di cheating, no? Quel momento di violenza durante la latte dove vuoi bam, bam, buttarla a pacco. Non c'è nessuno che ti riprova. Vediamo citandola un attimino. Bam. 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 Bello. Resistere. Sì, sì, sì. Bel lavoro. Complimenti. Danny Approve. Fammi vedere come ti godi il pulley. Allora, innanzitutto prendiamo l'accessorio, se ci interessa. Certo. Un triangolo. Anche questo fatto a mano. All made. C'è scritto fuori. All made. Pensa alle mani perché la zigrinatura è molto grezza. Per piacere. Faccia sentire. Se vuoi guantini. Vuole un po' di magnesite. Ma dai, per piacere. Allora, prendiamo il comodo sedile. Il comodo sedile, dici? Questo è preso da un attrezzo antico. Ha sottratto da un'altra macchina? Sì. Lo posizioniamo lungo la linea finale del tappeto. Ok. Tutto calcolato. Certo. Troviamo il setting. Stiamo attenti a non farlo scappare dalla carrucola. E cosa intendi dire? Se vai o troppo a destra o troppo a sinistra. Esce dal binario. Sì. Ok. Ci impostiamo. Ok. Quando arriviamo qui, massima contrazione. Mi piace tanto. Fammi assaggiare un attimino. Prego. Bam. 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 Ok, allora. A goduta pieno. Sì. È molto bella. Molto bella. Tra l'altro, con la carrucola posizionata a questa altezza e un semplice rialzato, possiamo trovare un nuovo angolo di lavoro ancora più appagante. Basta un rialzo in legno. Gli metti sempre lo schienale sottratto. Vi è già. Vi è già. Perfetto. Ecco il rialzo. Anche questa fatta male. Ma sorregge anche la mia mole pachidermica? È a 200 kg. Il test l'ha fatto... Non l'ho fatto. Esatto. È tutto un po' a occhio. Questa, questa strategia l'hai già adottata? No. Hai già provato a farti un rialzo, no? No. Ho portato io una novità? Certo. Perfetto. Sì, lunedì proviamo. Ok. Eccola qua. Adesso cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che il triangolo, quindi la presa, arriva all'addome basso, ok? Quindi sotto l'ombelico. Mi permette di sfruttare al massimo il dorsi. Sì, lo faceva anche prima, ma con un escamotage. Dovevi leggermente alzare le spalle perché eri basso. Sì. E toccava, in questo caso, posizione corretta. Pam! Scende. Con questa abbiamo fatto il pull-in definitivo. Continuiamo la nostra avventura. Questa non è fatta a mano. No. Questa è di un mio collega. Di un collega? Sì, che si allena con me. Come si chiama? Giuseppe. Salutiamo Giuseppe. Questo è questo. Sono roba sua. Poi il resto? Quindi questa palestra, diciamo, è stata fatta insieme da amici. Si è aggiunto un gruppo. Un gruppo bello, bello, ok? Questa la usiamo come secondaria. Se viene qualche amico, leggermente che sta all'inizio, neofita. Perché alla fine questa è comprata, non è stabile. Qui volevo arrivare, perfetto. Questo arregge fino a un massimo di 200 kg, però senza sbattere. La capacità di carico. Qui abbiamo... No, perché c'è lo scalino. Un'instabilità. Vediamo. Sotto sforzo. No, questa si piega. Si piega, vedi? Comunque, come hai detto tu, un neofita, un amico che arriva, se io mi devo allenare e ho la precedenza, lo possiamo accomodare qua. Perfetto. Qui puoi anche fare lo squat. No. Non si alza abbastanza. Si, si alza. Si dico puoi, non devi. Si, si, si. A fare si può fare tutto. Perfetto. Fammi un po' capire allora. Non nascondermi le chicchette, vedi? Si può fare tutto. Ok. Molto, molto bene. Ok, qua non serve testare nulla. anche perché noto già alle mie spalle un setup completo per fare, appunto, magari una panca piano, uno squat. Qui a terra abbiamo dei manubri componibili. Sempre del collega. Sempre. La sua area. La sua area. Perfetto. Il suo posto angusto. Ok, l'area di competenza di Giuseppe è confinata qui. Giuseppe, non ti allargare, tu stai qui e fatti gli affari tuoi. Qui invece abbiamo sempre una multifunzione di Giuseppe. Si, esatto. Che tricipite interessante. Ah, che bello. C'è un po' di sostanza. C'è anche il cornetto, mi piace. Macchina che conosco già, è una versione economica da centro commerciale di una multifunzione, quindi nulla di, di negativo, ma anche nulla di, diciamo, così tecnico da far sì che un atleta avanzato possa goderne appieno. È un entry level. Quindi andiamo avanti e scopriamo quello che c'è. Qui, ah, guarda, qui abbiamo una vertical machine. Per fare? Trazioni, dip, quello che è addominale. Quello che ci va, perché è di Giuseppe questa. No, ci facciamo quello che vogliamo. Vai, facci vedere. Sempre fatta a mano. Su, serio? Tu ha? Lo stesso materiale della pancre. Ah, è premium. Manubrio della bicicletta. Manubrio della bicicletta. Mettiamogli un po' di luce perché sai, macchine di un certo calibro vanno illuminate, eh. Guarda, adesso con la luce addosso sembra che ci sia stata portata dall'Arcangelo Gabriele. Ok? Che in sogno ha detto di che macchina hai bisogno di una vertical per fare trazioni e dip. Ed eccola qua. Bella. Sentiamo se è solida. No. È solida, sì. No, perché purtroppo il pavimento va in discesa. Perché tanto tempo fa quando c'era l'abbeveratoio gli animali, i flussi dei liquidi sono ovviamente in discesa. La assaggio, eh. Prego. Ma sempre con rispetto. Per forza. Non serve, comunque è una barra per le trazioni, normalissima. Abbiamo anche una variante. E se no che la facciamo a fare. Possiamo sia. Un po' di addome. Lavorare un po' il core con l'addome e fare tutte le nostre cosette che ci piacciono. Fatico ma sull'addome. Qui invece è un'altra macchina. Questa mi è stata regalata. È vecchia, però con una piccola modifica. Da chi? Un cugino. Ah, pensavo Giuseppe. No. Ok. Anche lui si chiama Giuseppe però. Giuseppe, grazie. Piccola modifica. Piccola modifica. A parte questi che sono maggiorati. Sempre fatti da me. Prima non c'era per bloccare le gambe. Infatti se vedi la che originale non c'è. Ok. E per fare la machine Giuseppe usa una tecnica particolare. Toglie il sedile e si siete sul palo. Quello, la sua attrezzatura. Qua si può fare di tutto. Puoi incastrare le gambe. L'unica cosa è che la machine non esce bene perché è bassissima. Beh, ma a noi cosa ci interessa? Abbiamo la machine progettata da Leonardo e Papi. Quindi che cazzo ne frega. Perfetto. Le gambe si possono fare bene e poi se il peso non dovesse bastare. Abbiamo aggiunto una piastra dove si possono caricare i dischi. Abbiamo cambiato la fune. Il cavo d'acciaio. Si possono caricare quando vogliamo. Certo. Qua esce bene la legge station. Posso assaggiare la legge station? Mi selezioni un carico. Mettiamo una via di mezzo. Da quello che ho capito c'è anche una sorta di rispetto. Se l'ultimo che si è allenato ha lasciato tutto il pacco pesi. Chi arriva dopo non lo può sostituire senza l'autorizzazione precedente. No, ieri sei per pulire. No, ma io ho sentito Giuseppe e ci ha dato l'autorizzazione. Si fidi. Giuseppe ha detto che possiamo scaricare. Certo. Ha abbassato il carico? Si. O mi fa un dispettino? No, è un carico umano. Umano. Grazie. Lei è molto gentile. Attenza, l'ha beberatoio. Si. Allora, mi ricordi com'è la legge station? Allora, il ginocchio va sopra. Perfetto. Questo invece? La gamba interna. Internamente, perfetto. Infatti avevo avuto un attimo. Così? No. Così. Perfetto. Quei quali se li deve regolare. Quali? I cuscinetti. In base alla larghezza delle gambe. Giri. Prem, prima forte. Prima forte che sono ingastrati per bene. Ok. I cuscinetti sono fatti apposta anche per mantenersi. Così? Così, io di solito. Così? Lei a lei piace così? Faccio come fa lei. Così e da qui si va a lavorare. Perfetto. È un po', è un po' sicuro che... Sì, ma non si preoccupi. Eh, mi sono un po' preoccupato, sa. Funziona tutto. Ok. Oh, ci picchia. Giuseppe chiedo scusa. Ok. Ok. Convieni con me che nella parte finale il carico è molto alleggerito. Eh sì. Ok. Perfetto. Quindi abbiamo un buon picco all'inizio e anche nella negativa, perché la negativa viene benissimo, in quanto nella parte finale devo esercitare grande attivazione da parte del quadricipite per riuscire a combattere il peso che mi schiaccia, mentre nella fase di distensione non ho un carico sufficiente, verso la fine è quasi nullo al percepito. Sì. Quindi in quel caso se volessimo lavorare con un'isotonica, gamba tesa, distesa, non si riuscirebbe perché in quel caso è molto leggera. Ma non importa, è una critica che stiamo cercando di trovare verso la macchina. Lui era sempre. Allora, sacra parola. Qui vedo una copiosa rastrelliera di bilanceri. Sì. Sagomato. Sagomato e zeta con un angolo diverso. Bilanceri corti. Sì. Un carro magari con bicipiti. Sempre per i neofiti. No, sempre tutto per i neofiti. Per i neofiti. Diverse lunghezze. Non vedo però bilanceri olimpionici regolamentari. Olimpionico perché? Perché da 29 mm. L'ho fatto sempre io. L'hai fatto tu? Sì. Mio padre. Noi. Che fa? Si prende meriti. Il papà o lei? Sia onesto con noi. No, noi insieme. Sia onesto. Mi fido. 20 kg, 29 mm. Sì. Tiramelo fuori. Il bilanciere. E lo mettiamo qua. Con Leonardo bisogna essere sempre molto precisi. Ok. Si vedono i segni delle mani vicino. Certo, i segni delle mani li ho visti. Ho visto anche il porta magnesite alle mie spalle. Non ti preoccupare che tutti i dettagli che devo notare io li noto. Prima di valutare il bilanciere però chiedo un po' di luce. La avvicino. Devo godermi ogni singola sfaccettatura. Ok, la zigrinatura va bene. Come mai? È stata una scelta stilistica tutta questa serie di anelli? Sì, è una scelta stilistica. Ok, hai detto se non so quale anello prendere ne faccio tanti così non sbaglio mai. Hai comunque segnato però l'81? Sì. Ok? Un sì incerto o un sì sicuro? Sì. Ok, 81. Perfetto. È il centro. Questo è importante perché sennò veramente è difficile dopo iniziare. Allora, bellissima l'idea di aver fatto un bilanciere artigianale. L'unico dubbio che mi solleva è il fatto che i perni di caricamento siano fissi. Tu mi insegni che su una panca piana, quindi su un fondamentale, su uno stacco da terra, su uno squat, il carico ai lati deve essere diciamo del tutto neutralizzato dal nostro movimento. Sì. Se un mio gioco di polso, un mio gioco di trapezio comincia a far roteare i dischi porta fuori asse il bilanciere e se i dischi cominciano a girare ti girano il polso. Adesso quando arrivi giù e vai in spinta, se cominciano a girare i dischi, girano il tuo polso e te lo porta via, ti fai tanto male. Quindi attento su questo. Questa è pure fatta tutta a mano. Veramente bello il selettore per l'inclinazione perché da quello che vedo permette di scegliere tanti angoli. Sì, sì. Questa è una cosa veramente bellissima. Quasi quasi commissione. A favore di specchio lo mettiamo. La metta a favore di chi vuole. A favore mio. Papà si arrabbia dopo. Perfetto. Anche le ruote ha messo papà. Come la mettiamo? A 90. Mi faccia vedere quanto è possibile giocare con... L'unico difetto è perché è leggermente lunga la panga. Va, ti allunga. È che il massimo in altezza è questo. Perché c'è questo? Non arriva. Eh, tocca il sedilo di sotto perché è molto spesso la spugna. Allora, intanto il termine difetto quando fa qualcosa papà cerchiamo di togliercelo dalla bocca, ok? Qua... Qua... No, no, no. Non è neanche una peculiarità perché purtroppo non lo può essere. In questo caso è un prototipo. Sì. In questo caso usiamo la panga di Giuseppe. Giuseppe. Schernito ed eriso, nonché canzonato finora da Leonardo e adesso, guarda un po', c'è bisogno della tua panca. Se ti senti... Giuseppe c'è qua? Sì. Se lo vogliamo presentare? Caramba, che sorpresa! Abbiamo anche Giuseppe che è appena arrivato perché ha sentito, ovviamente, che veniva deriso. Giuseppe venga qua. Per fortuna non ha sentito nulla di quello che le è stato detto fino adesso. Sì, sì, per fortuna. E questo è di Giuseppe, non conta niente. Quell'altro di Giuseppe conta ancora meno. Tutto una... Eh? Una presa in giro, eh? Quando si arriva qua, di chi è? Abbiamo bisogno? Giuseppe. Giuseppe. Grazie. Mi faccia finire qua con questo ragazzaccio. In questo caso, bellissima l'idea, però in questo caso possiamo farci solamente una panca piana. Qui stiamo arrivando alla conclusione, diciamo, del nostro tour. Abbiamo un altro mini cavalletto e a giudicare dallo stance dei bracci, molto probabilmente, è dedicato ai bicipiti. Esatto. Sempre con un altro nostro bilangere fatto a mano. Qua è tutto fatto a mano. Tu compri in giro. Qua si costruisce. C'è una fonderia. Vediamo. Quando è chiuso, è giusto giusto. Quando serve, si apre. Attenzione, ma quindi il papà ha anche studiato il modo di far sì che ci si possa fare squat, panca. Molto bello, molto interessante. Allora, vediamo altri pesi qua, altre cose. Io direi che ho tutte le carte in mano per valutare... Un indice. Attenzione, un ammonimento forse da parte di Leonardo. No. Manubri fatti a mano anche questi. Avevi dubbi, Nicolò? Girevole. Un espositore. No. È come essere... Se io devo prendere il 25, lo prendo, lo poggio, giro, senza che mi devo stancare. Ma stiamo scherzando? Già mi stanco facendo gli esercizi, se mi devo stancare anche per prendere il manubrio. Che cos'è? La fiera della fatica. Anche per i dischi è la stessa cosa. Per i dischi è la stessa cosa. Avete visto? Che bello. Mi hai detto che i manubri sono fatti a mano. Sì. Tranne questi, ma questi sono leggeri. Questi sono di Giuseppe, probabilmente. Sì, sono di Giuseppe. In questo caso ha fatto il piccolo bilancerino con la presa, mette i dischi, lo fissi con la molletta e fai un classico, quindi un tributo ai dischi di un tempo, giusto? I vecchi manubri. Molto bello, molto bello, molto piacevole. Ragazzi, che cosa dire? Attenzione, un altro dito indice che ammonisce. I cavi, signor Brennan. Ah. Ma, Leonardo, ma lei ha bisogno di un tutore, forse, per farmi fare il tour? No, l'emozione. L'emozione. E allora concedo anche questo piccolo inciampo. Leonardo, tu, se non fosse per Nicolò, probabilmente avresti perso un bilancerino su dieci. Ecco. Ecco. Allora, quanto sono belli questi cavi? Fatti a mano. Non avevo dubbi, avete anche tessuto le corde. Questo è un ercolino fatto a mano. Qua è tutto casareccio. Sembri un angelo che scende, hai visto dal cielo. Quanto sei bello, Leonardo. Poi, nel caso ci servisse, possiamo anche usare quelli bassi, per fare delle croci dal basso. Diciamo finora, fino a 40 per lato a letto. Allora un attimo, afferro i cavi, mi metto in posizione, mi faccia vedere. Ok. Ok, quindi è dall'alto verso il basso. Fammi assaggiare un attimino quelli giù che dicevi, mi metto in posizione. Sbigliolato. Parte dall'angolo giusto. Sì. Ok. Volendo servissimo delle corde. Ok. Questa non è fatta a mano, prendo anche quella fatta a mano. Ne abbiamo una fatta a mano? Sì. E che fa? Mi porta le cose fatte in serie? Eh. Mi metto in posizione. In questo caso posso mettermi sia... Se invece voglio avvicinarmi, ho paura di impattare. Questo può girare leggermente? Eh... No, però... Ok. Non c'è il rischio che esca dalla sede, dalla carrucola. Ok. Pow. 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 Arriviamo a chiusura. Io ho tutte le carte, come ti dicevo, in mano per valutare la tua home gym. Adesso mi cambio, ci vediamo fuori. Ti farò l'ultima domanda che servirà, diciamo, a completare il mio almanacco di decisioni, ok, che vengono tutte segnate per poi dare il giudizio finale. Sì. Fatto su dieci, bilanceri su dieci. Vediamo qual è la tua premiazione. Fammi cambiare e ci vediamo fuori. A dopo. Ok. A dopo. Giuseppe. Siamo dunque arrivati alla fine. L'ultima domanda, quello che mi serve appunto sapere, è quanto ti è costata, quindi quanto hai speso per realizzare l'intera home gym? Da quando hai iniziato e quando hai finito, diciamo in questa sua ultima versione. Allora, considerando che la maggior parte dell'attrezzatura è fatta a mano. Infatti. Io ho pagato soltanto il materiale. Quindi il ferro proprio? Sì, il ferro, il ferro vivo, intorno ai mille euro. Ma compreso di tutto? Sì. Ma dopo anche i dischi? Certo. Tutto. Dischi, telai, delle strutture? Sì, il ferro abbiamo. Ah. Bene. Questa credo che sia probabilmente la palestra più economica a livello di spesa, però il tempo e la costruzione è vero, è vero, è vero. Però effettivamente era il prezzo quello che mi serviva. Guarda, allora, come è stato per tutti, adesso darò la valutazione della tua home gym, però purtroppo non puoi ascoltare perché lo scoprirai direttamente in puntata quando uscirà. Va bene? Va bene. Quindi le nostre strade si interrompono qua e che il destino ci faccia riunire perché in quel caso vuol dire che avrai vinto e sarai con me direttamente dalla Certosus a Parma per scegliere e riscattare il tuo premio, ok? Speriamo. Speriamo. È stato davvero un piacere, davvero. Grazie per tutto e grazie per quelle leccornie. E adesso in viaggio giustamente ne approfitterò. Grazie e arrivederci. Ciao a tutti. Sì, la valutazione che ho pensato... Sì, ok, il vento mi era valta. La mia valutazione per questa home gym è di ben 9 bilancieri su 10. 9 bilancieri su 10 perché? Perché ho visto tanto cuore, ho visto tanta devozione. Il fatto stesso di investire la maggior parte del proprio tempo nel cercare di costruirsi l'attrezzatura è un qualcosa di veramente incommiabile ed era importante per me premiarlo. Oltre a questo il prezzo perché effettivamente è stata la palestra meno costosa. È dunque arrivato il momento di continuare il nostro viaggio e di visionare l'ultima home gym. Siamo quasi arrivati alla fine. Eh sì, buon nocciolino. Dove si va adesso? Prendiamo il volo adesso. Si va in aeroporto? No, ma c'è un bel motore però no. Dobbiamo andare per forza l'aereo. Quindi si va in aeroporto perché dobbiamo andare in Sardegna. In Sardegna? Eh sì. E adesso andiamo in aeroporto? Subito perché siamo già in ritardo. In ritardo? Allora corriamo. Presto, presto, presto. In aeroporto, pensa te. Ah, l'aeroporto va bene, questa volta si vola. Non sempre si può mangiare su terra. Adesso anche su aria. Che l'avventura continui, nocciolino. Ma come si mangierà a secondo me? In Sardegna, in Sardegna il porceddu. Il pane carasau. Il pane carasau, quante buone cose. Il pecorino. Il pecorino. E la pecorina? Il pane caras School Il pane carasau. Il pane carasau. Grazie.